Ciao a tutti, sono Andrea, sono Karen, siamo due studenti dell'Accademia di Belle Arti di Verona e vi volevamo raccontare qualcosa sulla nostra istituzione. L'Accademia offre corsi di diploma accademico di primo livello in decorazione, pittura, scultura, nuove tecnologie dell'arte, scenografia, progettazione artistica per l'impresa, cioè design e un corso di secondo livello quinquennale a ciclo unico in ristauro, suddiviso in due profili, PFP1 e PFP2. I corsi di secondo livello biennali invece sono tre, pittura, tailor direction, mediazione culturale dell'arte, italiana strategic design e in fase di attivazione animation and game art. Alla base dei singoli ingilizzi operano poi le sinergie che si sviluppano tra le diverse scuole e le relazioni costruite nel corso degli anni con numerosi stakeholders del sistema artistico, sia dal punto di vista aziendale che istituzionale, non solo nel panorama italiano ma anche in quello internazionale. Nei prossimi video proveremo a mostrarvi dunque cosa significa studiare in Accademia, rapportarsi con docenti che sono anche artisti e professionisti del settore, partecipare a bandi e progetti in collaborazione con mostre, musei, aziende e galleristi, vivere esperienze didattiche all'estero grazie al programma Erasmus Plus e potersi interfacciare con il mondo del lavoro grazie alle esperienze di stage. Arrivederci a presto!